La giostra di Simone Arrighi, in concorso al Last International Film Festival, è solo l'ultimo dei circuiti di diffusione dedicati al cinema d'autore a cui il cortometraggio del regista lucchese viene selezionato. Il film, girato tra Lucca e Coloniora di Pescaglia, affronta il tema dell'Alzheimer, in un racconto per immagini che mostra la sofferenza di una patologia degenerativa che affligge tanto il malato quanto la sua famiglia. Questa malattia, che purtroppo è molto più frequente di quanto si possa pensare, ma che è anche molto sottovalutata, perché tante per famiglie ne hanno a che fare e quando poi ti prende personalmente hai sempre l'esigenza un po' anche di buttare fuori quello che stai vivendo, anche appunto nel mio caso con la sceneggiatura, con il cinema, poi c'è chi lo fa con la poesia, con la musica, però insomma l'arte a volte aiuta anche a raccontare queste tematiche che anche sono un po' sofferenti personalmente. A Righi, artista sensibile alle tematiche sociali, sta portando avanti la promozione del corto. A metà dicembre sarà anche a Roma, al Digital Media Fest, ed è parallelamente alle prese con le ultime fasi di montaggio del suo nuovo film, il thriller psicologico Ricordati di sorridere sempre, una storia che racconta abusi sessuali e alcolismo. Un tema abbastanza sociale perché si basa sui traumi infantili, sull'alcolismo, l'abuso di un padre sul figlio, e l'abbiamo appena montato, anche lì speriamo che possa andare per i festival e di fare anche una proiezione presto nella mia città.